Tre furti e una rapina. Tutti ai danni di persone sole e anziane. Tutti avvenuti tra l'ottobre e il dicembre scorso tra San Costantino Calabro e Gionadi, centri dell'immediato Interland di Vibo Valencia. A compierli vecchi conoscenze delle forze dell'ordine, il 42enne Fabrizio Greco e Armando Petrolo, entrambi contrascorsi per reati specifici ed entrambi già finiti in carcere. I carabinieri del nucleo operativo di Vibo e della stazione di San Costantino li hanno tratti in arresto al culmine di un'attività investigativa partita da una sequela di furti che ha destato non poco allarme sociale. Nel ricostruire le mosse dei topi di appartamento, fondamentali sono state le immagini degli impianti di videosorveglianza, nelle quali, nei luoghi dei colpi, compariva sempre la stessa auto. Importanti anche le testimonianze dei rubati, che hanno vinto la retrosia e la vergogna di aver subito effrazioni tra le mure domestiche, trovando a loro fianco una comunità collaborativa. Come il titolare di un comprooro, che insospettito dalle frequenti visite di Greco e Petrolo, ha segnalato tutto all'arma. Noi dalla collettività di Vibo Valencia stiamo avendo sempre di più piacevoli scoperte, vedendo una cittadinanza sempre più attiva e partecipe alle attività investigative dei carabinieri sul territorio. Circa 2000 euro a colpo il provento dei furti, con tanti e gioielli, ora in parte restituiti ai proprietari. Singolare poi la dinamica della rapina ai danni di un anziano, avvenuta nel dicembre scorso. Per costringerlo ad uscire di casa, i ladri sono arrivati ad allagare l'appartamento, arraffando poi il magro bottino di 30 euro. Questo caso ha originato chiaramente da un furto calcolato male. Questo comunque ha maggior ragione all'arma e preoccupava, proprio perché metteva in luce la determinazione nel compimento del reato. Stefano Mandarano per la CNews24